Il tuffo. Questo è il secondo brano della pagina 10, e anche in questo brano la posizione delle mani è la stessa, i pollici sopra il do centrale, anche in questo brano contiamo fino a 4, e la sola differenza rispetto al primo brano della pagina 10, cioè il din-don, è che stavolta è la sinistra, che ha più note da suonare, e invece la destra ne ha pochissime, solo quattro note in tutto. Abbiamo sia note nere che contano un numero, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, abbiamo note bianche che contano due, e la nota finale che conta quattro. Suono due volte questo piccolo brano, la prima volta contando ad alta voce, la seconda in silenzio. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Sì. E appena. it 가운데. Ado. Grazie a tutti